eccoci ce l'abbiamo fatta finalmente ciao mike buon di fronte so ragazzo saluto grazie saluto tutti quelli che stanno arrivando vedo che già arrivata stanno che stanno arrivando si sono sono emozionato però già detto anche prima sono emozionatissimo sono contento era ripartita la mia live in background ringrazio ringrazio quelli che sono arrivati come va mike tutto bene lavoro un loop continuo tutto bene però in realtà anche se questo è periodo di commercialisti impegni e cose quindi è un kaleidoscopio confuso ma tutto bene quanto quanto ci metti più o meno cioè quanto è il tuo orario qual è il tuo orario di lavoro è tutto il giorno in realtà immagino come è naturale che sia se mi chiedi i miei orari di lavoro dipende dal periodo nel senso che le ore di lavoro sono bene o male sempre le stesse dove le vado a pescare no ossia in questo periodo escludendo il rituale di merenda cappuccino pomeridiana che è un pochino il momento nel quale prendo quel pizzico di vitamina d che dura mezz'ora forse meno i miei orari sono dieci tre ok quindi diciamo che poco pochissimo 10 e mezza 10 e mezza 3 no intendo 3 am no no immaginavo immaginavo era ironico pochissimo in senso non è non intendevo 15 del pomeriggio no no immagino immagino non ho tanti e tantissimo è veramente tantissimo ma d'orcia dormi riesce alla fine non è bene sì perché sì perché poi vado a letto le tre mi sveglio alle 9 qualcosa in questo periodo c'è non ho la sveglia molto presto in questo periodo ma mi permetto quindi di andare a letto in maniera pazza ok quindi diciamo che tu hai detto un determinato tipo di orario ma io sono non dico sicuro al cento per cento ma quasi che lo sfori sempre nel senso che beh guarda ti ho comunque forzato cioè nel senso sono stato molto schietto in quanto se ti avessi detto mezzanotte si sfora sempre ti ho detto tre è vero che mi capita di andare tre e mezza però comunque è tanto quindi ti ho incluso un po tutto ti ho incluso un po tutto bene o male in quello che è il contesto di costruzione della giornata e dei diversi impegni da pianificare e categorizzare in quelle fasce abcd ti ho messo tutto ok ok allora come ti avevo detto anche prima rompiamo un attimo il ghiaccio prima di iniziare la vera e propria intervista anche se questa domanda è un po sai bene com'è in realtà allora iniziamo con il fatto con la domanda di riscaldamento come ti ho detto anche prima creiamo questa immagine ok tu sei per strada in una fila comunque sei fuori sei fuori casa e a un certo punto arrivano persone che ti chiedono foto eccetera eccetera il ti chiedono autografi tutto quello che penso immagino succeda forse non in questo periodo però succede e direi ok è a un certo punto una persona si ti chiede come mai succeda questa cosa ok e tu a questa persona come risponderesti cioè ti chiede che il lavoro fai tu a una persona che non ti conosce certo cosa diresti che il lavoro fai allora quello che faccio è creare contenuto sul world wide web specificatamente direzionato alla nazione italia in quanto ho deciso di farlo e di parlare e di scrivere in italiano contenuto nel quale discuto approfondisco e vivo l'industria e il mercato del medium video ludico quindi i videogiochi sotto profili diversi che vanno dall'intrattenimento alla divulgazione per finire nella critica e questo fa sì che attraverso sia un linguaggio che talvolta si distanzia un po e diventa non da cattedra ma da barriera come può essere la divulgazione la critica che sono cose un po più fredde per quanto io le faccia con cuore rispetto invece al giocare condividere il videogioco come anche hobby insieme al pubblico che si interessa quello che faccio questa combinazione di cose genera quel tipo di rapporto un po più personale intimo rispetto a quello che è stata negli ultimi non più negli ultimi venti ma diciamo nell'epoca anni 60 anni 90 il rapporto distaccatissimo e molto teatrale della televisione quindi per questo c'è più questo istinto non tanto da star system quanto da famiglia che si va a creare tra soffiere foto coccole non solo poi io sono sempre stato uno che ha evitato transenne e fila quindi nel senso che ti butti proprio della ok ok cosa che causa conseguenze drammatiche al corpo però si tipo 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 che tu sei all'interno di una fiera visto che hai l'età giusta nel senso che io non ho cominciato a ricevere qualche attenzione a 14 anni io ho aperto il canale 26 quindi nel momento nel quale qualcuno potesse in qualche modo incuriosirsi a me dal vivo ne avrò avuti 27 qualcosa sì sei inesperto ti mancano quelle esperienze che ti permettono di essere un pochino più consapevole di ciò che fai come lo fai dove lo fai però sei vicino ai 30 e quindi puoi parlare da giovane uomo cos'erano e come funzionavano sbattevo i piedi e dicevo no non sono un ragazzino non preoccupatevi non ho bisogno per quanto rispetti profondamente il loro lavoro e posizione di bodyguard o protezione di qualche tipo fatemi andare perché tanto non sono bimbi loro non sono bimbo io let's go facevo così però in quei momenti che succede che ti dedichi completamente a chi è davanti il corpo va in autodifesa quasi adrenalinica quindi ti dà l'energia necessaria per farlo ma quando è finito è finita scoppi sì esatto esatto salti proprio sì immagino io in tutti gli anni in cui ho fatto fiere saranno state 3 4 quelli in cui non sono tornato a casa con la febbre è impossibile altrimenti cioè hai uno scarico in cui poi non è febbre che ti rimane il giorno dopo perché è proprio il il corpo che ti fa vai a letto però arrivi lì che stai completamente distrutto ma addirittura c'è proprio da stare così male mamma mia si semplicemente dici va bene coma poi ti svegli bene sano felice però lì arrivi proprio al limite fisico in cui ti il corpo ti va in shut off immagino immagino ma poi con i tuoi rari poi con le cose immagino che sia se non dico sì è sempre così l'hai detto anche sì ma in realtà proprio per il fatto che io ti ho detto dieci e mezza tre sì sono tante ore si fa il pazzerello ma è dieci e mezza tre non è sette e mezza tre quindi le ore di sonno le fai salvo casi particolari salvo i rush finale ok cioè se devo fare full immersion sta per uscire una cosa importante devo entrare entro nel ne ne diamo embargo una data lì sì là ti spacchi però sono il classico crunch lo fai in determinati momenti ma non è lo status quo quindi tu comunque nonostante tu sappia che hai un sacco di lavoro da fare ma comunque riesci ogni tanto a ritagliarti quella attima quella no no ovviamente immaginavo immaginavo che sei il periodo not yet, nel senso sono riuscito a farlo barando ossia rispetto al passato che comunque permetteva anche di creare contenuti più in fretta, per carità si vede quello che adesso è diventato il potermi ritagliare qualcosa sono diventate le live sono comunque un impegno, un lavoro, un contenuto ma per me sono l'extra e lo sfogo e quindi ritaglio quelle due ore o magari appunto, metti caso ho lavorato questo giorno è arrivata la mezzanotte stasera faccio, stanotte faccio una live al posto di fare fino alle tre sul montaggio fai la live extra e lì passi la nottata a fare quello scarico ma è la stessa cosa? cioè è la stessa cosa a fare la live di riposarsi, no? a livello mentale dipende dalla live se è un extra tendo a fare quello che più desidero cioè se è un extra è qualcosa che voglio fare voglio fare e io sono il ragazzino sono il bambino sono il giocatore che prendeva per la collottola la sorellina diceva ti va di vedere il boss finale di questa cosa? la mettevo lì e le raccontavo tutto mentre finivo un gioco quindi ho semplicemente ampliato questo a livello professionale quando mi è stato possibile e quindi le live notturne sono per me un momento nel quale posso staccare un po' quindi non è proprio dormire no? non è dormire sì perché io comunque qualunque cosa faccia cerco sempre che abbia quella luce scintilla di contenuto che possa renderla valida come esperienza però non è certamente stare in full immersion a fare post produzione dell'animo oscuro è una cosa diversa beh immagino ma ci arriveremo ci arriveremo anche a animo oscuro a effigie eccetera eccetera ci arriviamo tra pochissimo ultima domanda di riscaldamento poi si parte ufficialmente anche se siamo partiti già da dieci minuti allora qual è stata quando qual è stata diciamo ecco la scintilla il fatto chiamalo come vuoi che ti ha fatto dire ok devo fare i video devo fare i contenuti mi butto su youtube che ti ha fatto partire effettivamente aspetta aspetta hanno aspetta hanno 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 presentato un nuovo switch adesso adesso vai vai tranquillo guardiamo allora allora ti mando ferma ferma aspetta aspetta non mi muovo c'ho te lo mandato te lo ho mandato su facebook ok diamo un'occhiata un secondo diamo un'occhiata un secondo vediamo un po' ok vediamo credo sia semplicemente uno schermo migliore non un hardware più forte però vediamo un po' è vera è tutta vera eh sì allora è proprio molto vera allora schermo OLED 8 ottobre attenzione credo sia solo schermo eh è modello OLED immagino sia quello eh esattamente non è una switch pro per dire no no non è una switch pro però è uno schermo per adulti diciamo per adulti ok sì no sì perché comunque è una di quelle cose che sicuramente li costerà più di una light e che non compri al bambino piccolo mentre la light è perfetta per un bambino piccolo un po' come il 2DS no minchia però certo spero forse ne parleranno mi piacerebbe moltissimo che avesse qualunque cosa dentro che le permettesse di sfruttare un po' meglio lo schermo OLED beh diciamo che hanno aspettato la mia live vero hanno detto aspettiamo c'è pazzo che alle 15 fa la live annunciamola a quell'ora e infatti fantastico va bene per ora lo spot è puramente estetico puramente estetico la famiglia switch si allarga perché abbiamo per ora semplicemente il nome modello OLED non so se verrà mantenuto così o se le daranno una nomenclatura più creativa ma credo visto il sito di Nintendo che potrebbe rimanere modello OLED a dire il vero anche la porta Ethernet sulla dock finalmente sì però in realtà che dubbio ti assale il dubbio che mi assale è che per carità bello io adoro l'OLED perché era una delle cose più affascinanti di PS Vita e l'idea di uno switch per grandi ossia che potesse avere un supporto più diretto dell'hardware o comunque anche fosse solo una dimensione più grande per chi ha le manone che non sono propriamente io ho più le mani da pianista sono grandi ma non con le dita tozze ma io so di un sacco di amici che hanno difficoltà terribili a giocare con switch il mio dubbio è un pizzico di spinta in più per poter sfruttare l'OLED a una risoluzione interessante mi sarebbe piaciuta molto però secondo me non è detto che non ci sia non è detto che non ci sia potrebbero parlarne più in là anche più che altro per la batteria perché dicono anche leggo che in chat che dicono la batteria forse durerà un filo di più ma in realtà se devo essere onesto switch non ha mai avuto problemi di batteria nel senso switch comunque è sempre stata una console portatile bella con la durata della batteria indipendentemente da tutto specialmente quello che offre resiste tra l'altro non saranno cose ufficialissime ma io per esempio ho comprato un dock che praticamente è un grosso controller che ti permette di tenerla meglio che ha dentro una power bank quindi diventa letteralmente è crimine di letteralmente diventa potenzialmente infinito se giochi un giorno perché ti dura più di 20 ore quindi vai tranquillo meglio magari ti dura 7-8 però insomma ecco poi l'attacchi un secondo vediamo vediamo ok possiamo tornare a noi possiamo tornare a noi sì diciamo che vedremo com'è che si può dire step by step cosa mostrerà esatto 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 io sto per citare qualcuno ok torniamo alla poi magari arrivano notizie ne sono sicuro oramai è così ma la domanda che ti avevo fatto prima per riscaldamento sempre cioè qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire il fatto quello che è che ti ha fatto dire ok faccio video devo condividere la mia passione devo caricare su youtube io facevo video molto prima che potessi connettermi a internet molto 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 prima prima di essere maggiorenne prima di essere in realtà vicino alla maggiore età io ho cominciato a 13 anni a fare video e da prima a scrivere di videogiochi nei miei blocchetti note nella mio piccolo micromondo perché l'ho sempre fatto quello che mi ha spinto è stato un input esterno che mi dicesse dai prova adesso che puoi essere connesso al web e il fatto che io avessi sempre avuto quel semino che voleva germogliare e l'ho sempre avuto ossia ciò che facevo nel microcosmo quindi con familiari amici o talvolta anche sconosciuti perché questo l'ho raccontato mille volte ma mi capitava ed è una cosa che mi ha sempre sorpreso adesso comincio a razionalizzare un po' di più ma continuo a essere commosso ed emozionato al pensiero sia dal presente sia dal passato io quando andavo a ciò che nell'universo nerd è sempre stata un po' la festa di compleanno in cui ti diverti ma non hai così tanta voglia di star lì a fare cacciara quello che mi capitava era di iniziare una conversazione con un paio di persone e ritrovarmi con un piccolo cerchio intorno e mentre raccontavo aneddoti approfondivo banalità di cultura generale perché avendo viaggiato molto avevo piccoli aneddoti racconti chicche e così via e questo l'ho semplicemente ampliato a quello che sarebbe stato il internet è per questo che nel primo video che ho fatto sul canale parlo a un pubblico non perché pensavo che ne avrei avuto ma perché è deontologico quando fai un video su internet avere la capacità di capire che tu lo stai pubblicando liberamente a chiunque sì qualcuno potrebbe lo vedrà qualcuno potrebbe qualcuno potrebbe esserci anche fossero due persone per dire esattamente esattamente ho visto una cosa che è molto meno comune di quanto non sospettassi quindi lo racconto così certo certo allora ci ricolleghiamo comunque alla domanda che ti avrei comune in ogni caso fatto magari si amplia un po' la situazione la cosa e quindi ti chiedo prima di iniziare sul web prima quindi di pubblicare i video eccetera eccetera chi eri sempre dal punto di vista proprio lavorativo comunque quindi di contenuti e specialmente questa è una domanda per me importante quanto il fatto di non avere avuto una linea stabile o veloce ha influenzato quello che sei oggi e lo sapevo io che avresti fatto così e soprattutto qua viaggiamo un attimo con la mente se avessi avuto una connessione decente sin da tra virgolette subito saresti come sei adesso sul web allora domanda tu questa live la stai comunque anche registrando spero perché è un bel contenuto questa live rimandi e me la salvo la scarico proprio perfetto perché ti chiederò il permesso di spargerla e di pubblicarla magari come talk show perché potrebbero uscire cose interessanti ti dirò ti dirò ma lei è tua quindi no beh no se me la vuoi dare sì nel senso la 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 butto fuori però decidi tu serenamente perché appunto mi hai invitato a un'intervista sono a disposizione e suddito in questo momento però ti dico allora ha senso dunque vabbè quello che sono stato prima l'ho raccontato tante volte nel caso possiamo direzionare i ragazzi chiunque allo spirito del falo 3 in cui nei video che chiamo snm racconto bene o male tutto fondamentalmente la mia istruzione il mio percorso professionale e in generale quello che ho fatto long story short mi ero introdotto in Italia nel processo di lavorare in cinema e televisione sono riuscito ad arrivare infine al di là dell'accademia di scuola cinematografica Gian Maria Volontè poi a Technicolor Italia che ha chiuso successivamente proprio come istituzione in Italia è stata troncata via perché sì perché avevamo poco interesse cioè avevano i francesi poco interesse in noi come sviluppo di quel tipo di post-produzione e così via va bene altra storia altra vita e yada 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 lì si potrebbe parlare per un'ora e mezza troppi troppa ciccia troppa roba piuttosto anche qui cercherò di essere breve perché è stucchevolmente lungo è un po' una domanda quasi di Schrödinger nel senso a livello di vita a livello di lavoro a livello di studio la mancanza di una connessione mi ha decimato l'esperienza mi ha distrutto le possibilità e mi ha stroncato quasi ogni strada ho cercato di intraprendere perché tutto quello che ho sempre fatto è sempre stato legato al digitale qualunque cosa dal primo montaggio non lineare fino al lavoro e allo studio della post-produzione cinematografica non c'è sono cazzi è sempre tutto legato al digitale è sempre di tutto legato l'outsourcing all'inviare file e allo studiare online perché non esistono non sono mai esistiti perlomeno nella mia crescita alcun tipo di decente approfondimento e studio della materia fisica materiale tutto è in corsi online internazionali ovviamente in inglese che ti davano le basi per poter avanzare nella comprensione nell'utilizzo di programmi professionali sto parlando di cose grosse come nuke eccetera eccetera non lo trovi un cristiano bravo semplicemente diretto che trovi sulle pagine bianche perché ti insegna nuke quindi ti lascio immaginare un delirio è stato terribile sia nelle relazioni personali sia nella professione sia nel lobby un incubo uno schifo immondo quindi non c'è bisogno di approfondire troppo perché poi diventa una blagna si arriva poi al big if ossia ossia io ho sempre voluto creare condividere approfondire parlare seriamente del videogioco ma da molto prima di avere una connessione da molto prima tanto che lo facevo nel mio piccolo l'ho sempre fatto è per questo che quando ho cominciato a parlarne mancavo di esperienza avevo tanto ancora da studiare come ne ho tanto ancora oggi ma non ero cascato dal pero quindi se io nel 2004 nel 2003 avessi già avuto una connessione oggi avrei in tutto degli zeri in più o in meno è stata l'esperienza opprimente e molto limitata con tutte le difficoltà che ho avuto a permettermi di diventare ciò che sono oggi che è un po' come uno vorrebbe raccontare il famoso i soldi non fanno la felicità oppure avrei semplicemente ottenuto lo stesso dieci anni prima diventando questo con due zeri in più eh 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 che non si sa non si sa eh vabbè si potrebbero cioè poi potrebbe succedere sarebbe potuta succedere qualsiasi cosa nel senso che magari sareste arrivato nel momento sbagliato chi lo sa esattamente esattamente esatto certo sì forse forse in realtà non forse è il contrario forse ho avuto la fortuna di arrivare nel momento giusto quando altrimenti sarebbe stato troppo tardi ma potrebbe essere più o meno questo sì anche perché dire che sei arrivato troppo tardi no no dai io questa cosa non la direi poi magari tu 2013 YouTube Italia non lo so io sono arrivato in un momento nel quale io oggi comincio a capire YouTube e Twitch un pochino come community ma non sapevo neanche che esistessero altri creator italiani ed era una roba bella anziana ormai YouTube nel gaming c'era una un'affermazione generale magari se non tardi io avevo 26 anni non 16 eh cioè non lo so da una parte io sono molto contento perché appunto io ho una posizione e ho degli obiettivi e faccio un contenuto e faccio un lavoro che a differenza di molti altri più invecchi meglio è io non ho nessuna preoccupazione nei confronti del eh YouTube a 30 anni figa certo ma anche a 40 ma anche a 50 bimbi perché si parla di critica divulgazione approfondimento passione e condivisione più grande sei più esperienza hai più palle hai più figura fai più sai quel che fai meglio eh più hai un pubblico che sa quello che vuole e sa quello che cerca e tu sai offrirglielo se io devo fare critica videoludica con 30 anni di esperienza la preferisco rispetto all'opinionista che ne ha sei mesi quindi diciamo che diciamo che l'età non è allora è ovvio che l'età fa potrebbe anzi in realtà fare anche l'esperienza però è anche sì devi sapertela fare devi sapertela fare esatto non ti basta invecchiare ovviamente il più grosso errore che puoi fare specialmente quando hai un seguito quando hai un un grosso errore un grosso errore ne ne parlai tra l'altro con pregianza più volte un qualche aligi comandini molto bravo io ne ho parlato più volte con lui il più grosso errore che si può fare da influencer o da qualunque forma di appunto posizione critica che puoi avere sulla sulla piattaforma anche perché ricordiamo una cosa molto interessante non esiste il foglio del critico nel mondo dei videogiochi la differenza tra un qualunque editor in chief di un outlet ok Pier Paolo Greco Francesco Fossetti Stefano Silvestri chiunque abbia una posizione in un outlet a livello pragmatico di inutile superfluo potremmo dire ma molto ricercato dal qualunquismo sociale pezzo di carta non esiste differenza con lo youtuber di qualunque categoria ed età quello che cambia è il percorso professionale il proprio ruolo l'esperienza i riconoscimenti gli eventi accaduti e come viene visto da aziende mondo pubblico e ovviamente in generale il tipo di posizione che ottieni attraverso la complementarietà la combinazione e l'addizione di tutte queste cose a livello di gerarchia critica nei confronti del pubblico e del medium nel momento nel quale un sito riceve milioni di visite e inizia ad avere l'interesse da parte di aziende o di major come Sony Microsoft e Nintendo che mandano loro review code per recensioni li invitano ad eventi per press tour li invitano e cercano interviste per visibilità gli offerano pubblicità per il loro sito molto spesso un'altra grandissima sciocchezza grandiosamente infantile dei più dipende o piccoli o dottusi o entrambe le cose meglio meglio piccoli che ottusi piccoli meglio piccoli ovviamente meglio piccoli che ottusi anche entrambe le cose ci sta perché si è spesso piccoli ottusi a una certa parte della propria vita spesso pensano che fare pubblicità nei confronti del medium su cui lavori in forma critica rimuovere la tua capacità di indipendenza e autonomia di appunto analisi e divulgazione anche appunto recensiva quando in realtà qualunque addi su un sito dovrebbe in qualche modo distruggere qualunque forma di rispetto nei confronti di un outlet e viceversa elevare a un eccessivo tipo di santificazione il critico autonomo che appunto nella classica ricerca della sofferenza italiana del lavoro vive distenti e si autoalimenta con le briciole che trova a terra senza avere un sistema professionale globale nazionale che lo supporti per il lavoro che fa mentre spesso e volentieri appunto tutto mecinatismo in quei casi esiste il mecinatismo come è anche giusto avere a che fare con una quella che sembra uno simoro quando in realtà è semplicemente un'apertura professionale la differenziazione tra analisi critica e recensiva e vendo lo spazio visibile della mia azienda della mia visibilità a un cartello che altro non è non è un'analisi critica non è la corruzione non è l'influenza negativa e terrificante che può succedere in tanti altri casi tanti altri casi cioè che cosa succede qual è la differenza fra una pubblicità e una cosa corruttiva e che se hai la minima minima etica professionale devi non solo denunciare immediatamente ma bruciare sul posto e rispondere a chi te la propone con un aggressivo addio merda perché non si può non esiste la differenza è un'azienda o un management che ti chiama e ti dice sta per uscire advance wars il reboot remake che sta per essere pubblicato dicembre metti caso che nessuno sa che io ne sono un grande appassionato che io ne sono un grande appassionato e questa cosa non è davvero accaduta magari mi piacerebbe moltissimo e che i software i developer mi dicessero se ci fai una live e un video ti vorremmo offrire un gettone un budget così che tu possa presentare il gioco mentre lo giochi a qualcuno che non lo conosce quello se e per me è sempre stato così prima che la gente si spaventasse di conseguenza o fosse obbligata a farlo se dichiarato anticipatamente chiaramente esplicitamente che quel video è un advi quindi praticamente sei pagato per sfruttare lo spazio che tu presenti loro come tempo ed edizione di tempo di contenuto per presentare il gioco che non deve essere una copertura critica mortacci loro non deve essere semplicemente un gameplay deve essere un giocare insieme o un approfondimento sul genere come ho sempre fatto io quando io ho fatto sponsorship per esempio di Octopath Traveler e Breath of the Wild io che sono io che sono un po' pirla ma sono molto felice di com'è andata di com'ho fatto ho fatto dei video della Madonna perché quelli sono video della Madonna nessuno io sono molto autocritico sono estremamente fastidiosamente distruttivo di quello che faccio ma so grazie a Dio negli anni ho imparato Ama e so giudicare un buon lavoro quando lo faccio quei video su Octopath Traveler Breath of the Wild sono ottimi contenuti in cui in uno faccio un'apologia di quello che spesso è il JRPG visto dagli occhi di un occidentale e faccio un confronto tecnico analitico descrittivo e di approfondimento su quello che sono i due sottogeneri del GDR e nell'altro invece racconto l'intera epopea dello sviluppo anche se molto soft di quello che sono gli incipit e l'idea di The Legend of Zelda come franchise ecco ok quello va bene quello è pubblicità che non rimuove capacità autonomia e rigore critico quando invece fai critiche e tra l'altro è ciò che ti permette di ridere in faccia a chi si ride in faccia semplicemente a chi fa il saccente ignorante o l'acidioso che cerca no l'acidioso che cazzo dico l'acidioso è un'altra cosa che fa il pernicioso che vuole danneggiarti a livello di immagine lo fai solo con quelli ma ce ne sono è il motivo per il quale quando fai per esempio una critica a un'azienda che presumibilmente dovrebbe offendersi dinanzi a certi comportamenti perché tu dovresti fare l'influencer mica la persona che la fa sì oppure tu sei un outlet comunque devi stare attento alle parole perché altrimenti potresti no non funziona così nel momento nel quale hai l'adeguato seguito hai la giusta fondamenta e non sei un capriccioso non critichi per fare numeri non critichi per fare pubblicità negativa di gioco per diventare il santo del populista del pubblico e fai bene il tuo lavoro non succede nulla e anzi ricevi una forma di rispetto incredibilmente meravigliosa da constatare nel momento in cui un'azienda ti vede giudica definisce come critico oltre che appassionato e tu fai una critica anche dando magari un voto non proprio eccezionale a un titolo io vi ricordo di 5 e mezzo a No Man's Sky che adesso è stato trasformato completamente non è più No Man's Sky di prima nel senso e non solo diedi anche un 6 e mezzo a Sword and Shield quindi insomma cose che possono dar fastidio in teoria nell'immagine del capriccio aziendale maggiore non è così non è così semplicemente non devi farlo in maniera appunto pubblicitaria per te stesso devi essere in grado di definirti e risultare dimostrare di essere quello che sei detto ciò il punto è che di conseguenza se tu fai questa esperienza in vecchi non stai perdendo appeal magari sarai meno interessante per il neo quattordicenne ma dagli il tempo di arrivare a 21 e preferirà sempre te all'altro quattordicenne non perché sono stupidi i giovani ma perché dai tempo al tempo dai tempo al tempo ma a mano che cresci il tuo interesse vira nei confronti di ciò che potrebbe essere un contenuto più approfondito e interessante come un Joseph Anderson che la gente lo guarderebbe direbbe no ma che polle invece no Joseph è molto bravo Mark Brown che è un dio in quello che fa cioè ecco diciamo che sono stato prolisso ma ho risposto un po' alla tua domanda ma non esiste non esiste prolisso esiste esaustivo sì diciamo così che è il motivo per il quale io faccio certi video un tempo ero solo prolisso ma infine esaustivo soprattutto prolisso adesso le cose sono cambiate parecchio non sono ancora perfetto by any stretch of the imagination citando un altro grande individuo però sono molto più competente nella sintesi di quello che è l'obiettivo di essere sì completo ma non logorroico con quello che vuole essere non avere lose hands uno dei motivi di quali per esempio un video su cyberpunk dura due ore è che non voglio infatti non ci sono stati non perché sono figo ma perché ho pensato a tutto quello che potesse essere domandato e tutto quello che volevo rispondere io a priori non ci sono eh ma eh ma dunque eh ma quella cosa là eh ma quell'argomento lì eh ma quell'evento là ma quella meccanica su quell'idea giù no ho parlato di tutto ed è quello che faccio sempre è l'obiettivo è anche il motivo per il quale non faccio come i ragazzoni di player inside così tanto così spesso perché loro magari saranno meno col microscopio ad andare a fare una disamina di due ore però sono coperti da tutto cioè coprono tutto coprono in cosa sono l'outlet digitale è una cosa completamente diversa ma anche secondo me complementare ripeto esaustivo no perché poi io ho questa idea non c'entra niente con le domande che ti volevo fare ma mi è venuta adesso ma mi sembra tu hai detto che sei molto autocritico eccetera eccetera ma non pensi a volte magari di esserlo troppo allora ti dico subito questo ho sviluppato negli anni una tale consapevolezza di ciò che dico ad alta voce nel cercare di creare un discorso nonostante il mio pregio ma anche difetto di aprire molte subordinate paralleli parentesi così via che stavolta dopo in realtà molto tempo che faccio interviste negli ultimi anni senza alcun problema so di aver fatto un errore con te e se ne accorgerà solo chi rivedrà la diretta perché nel flusso di coscienza tu in diretta magari la chat potrebbe essere se ne resa conto in quel caso le chiedo aiuto io so che nell'approfondimento di parentesi folle che ho fatto sulla critica e la pubblicità quel dettaglio era partito da una suddivisione di argomenti che aveva una A e una B la A l'ho dimenticata e ho concluso con la B quindi manca uno dei paralleli una delle ramificazioni che ho creato l'ho persa questo è ciò che accadeva spesso nei miei video in una diretta quando mi sono preso un secondo la briga di andare su una tangente pazza può succedere ma l'obiettivo all'allenamento è ciò che deve portare l'esperienza e non farlo mai a me è successo adesso e non ricordo qual era la A quella cosa che poteva essere il detto questo A e B invece ho detto questo B ed è un problema questo è un tipo di autocritica che nasce con la mia autoanalisi in diretta proprio faccio data mining di ciò che dico mentre lo dico però no l'autocritica in questo caso non è troppa e non è sbagliata perché comunque si vive perlomeno negli ultimissimi tempi ed è una cosa preziosissima se sai guardare comunque circondati da coccole il content creator vive circondato da coccole perché ti seguono una quantità di persone difficile da concepire a livello proprio cerebrale considera che parlando di stupida cultura generale quelle chicchette che non servono a niente ma che in realtà ti fanno sentire divertente quando ne parli a qualcuno che magari non lo sa non conosce quel dettaglio il cervello umano non è in grado di immagazzinare più di 150 persone non può farlo cioè il suo limite mnemonico attuale perlomeno della nostra specie sapiens sapiens 150 volti nomi e cognome è il massimo che può con allenamento memorizzare perlomeno nella media odierna è ovvio tu vedi dei numeri dei nickname magari te ne ricordi anche a centinaia però è diverso e quando vieni seguito o l'episodio dell'anima oscura ti fa 80.000 visualizzazioni o hai 3.000 persone in diretta ecco di quelle persone il 10% è attivo e di quel 10% il 10% ti parla di quel ultimo 10% il 2% sono teste di cazzo il 3% sono critiche approfondite molto interessanti che ti possono aiutare a crescere e a trovare una quadra su qualcosa che hai sbagliato su un tuo errore su una tua svista o sul semplicemente utile percorso di accrescimento di ciò che sono le tue competenze anche di comunicazione esposizione o persino anche in caso trovi la chicca o il professionista di grammatica video e proprio creazione del contenuto e il resto sono tutte coccole meravigliose commoventi alcune più dense di altre talune arrivano a creare dei wall of text non tanto di piccoli ragazzi innamorati ma di giovani uomini giovani uomini completamente colpiti da ciò che fai e ti fanno una disamina che ti toglie il fiato in mezzo a quelle coccole secondo me se ti basi su di loro e basta ti autodistruggi perché ti fermi ti blocchi ci arriviamo adesso ti faccio cioè tra poco non alla prossima domanda ma fra un po' ci arriviamo al pubblico perché per quanto mi riguarda diciamo per quanto mi riguarda penso sia oggettivo è tanto importante in questo mondo è la cosa vabbè io ho sempre cercato pubblico anche da bambino ma a me è normale è normale penso sia normale io piccola critica in generale non è rivolto ovviamente a nessuno è tanto facile dire io non lo faccio per per crescere per gli spettatori lo faccio per me perché ho una passione in realtà se vuoi fare il content creator devi per forza interfacciarti a un pubblico non puoi content creator per chi? per te stesso a sto punto no? mi verrebbe da dire cioè per forza ti dirò una cosa ti dirò una cosa io a livello diontologico ho parlato a un pubblico ma fino alla metà dell'anima oscura era solo per me stesso già cioè non l'hai fatto per sapendo che qualcuno l'avrebbe guardato e quindi ok parlo con qualcuno ok io l'ho ho parlato al plurale perché era giusto farlo era rispettoso nei confronti di un contenuto che sarebbe potuto essere visto ma l'anima oscura era un mio sono arrivato qui ho una connessione a internet finalmente ciò che ho sempre fatto lo posso fare mettendolo su una piattaforma che per la prima volta è pubblica ma che essendo ormai adulta è io il nessuno farò per me stesso metterò la mia piccola operetta su questa piattaforma fine ok poi appena ho visto delle voci non solo è cambiato l'obiettivo si è evoluto ma questa è una cosa quasi impercettibile per una percentuale penso infinita molto alta di persone ma e questa tra l'altro è una cosa che non ho mai detto da un certo episodio in poi la qualità è aumentata perché sapendo che qualcuno stesse osservando ci ho messo di più e questa è una cosa che continua ad aumentare sempre di più beh penso sia palese nel senso penso sia ma parlo dell'aumento di qualità non dopo l'anima oscura intra anima oscura durante ok durante l'anima oscura dall'episodio tredici poi quattordici poi ok adesso tra poco ci arriveremo comunque alla penso sia anche lì da parlarne tanto però cercherò di non fare una domanda che implichi una risposta che non implichi una risposta corta ma neanche troppo lunga nel senso che però ci arriviamo tra poco adesso voglio introdurre un attimo un argomento che sai che per me è importante perché te l'ho detto prima non per qualcosa è l'argomento ansia l'argomento ansia ovviamente legato al tuo lavoro ovviamente non in generale e ti chiedo a parte i momenti in cui hai avuto cito la tosse secca la tosse che hai avuto per non so quanto tempo vorrei citare ma oltre questo livello psicologico che poi in realtà quello era anche livello psicologico però decisamente esatto non era fisico era come si dice quella è la parola ah beh esatto esatto però a parte quello il ti è mai capitato ecco di provare ansia mettiamo le virgolette a questo quello che sto per dire ovvero per colpa del pubblico che ne so una pressione una critica un qualcosa del genere che ti ha fatto dire oddio non so cioè magari non esagerando devo continuare o no perché non penso però sì ma no ok ti spiego non è lunga ma è precisa vai io ho sempre dato enorme rispetto alla responsabilità di qualunque cosa facessi anche fosse l'animo scuro a uno che cosa implica questo che non ho mai fatto qualcosa prima di sentirmi abbastanza pronto da farne un primo passo io non ho cominciato neanche a parlare di recensioni prima di sapere di aver ottenuto la capacità di analisi critica necessaria a poter esporre spiegare e valutare un videogioco a un livello sufficiente di profondità e competenza indi per cui quando ho fatto la mia prima recensione che è stata No Man's Sky non avevo ansia ero pronto potevo farlo e questo vale per tutto questo vale per tutto molto meno quando invece si affrontavano delicatezze completamente aliene alla competenza bensì nei confronti di quello che era un mondo alienante come per esempio appunto le sponsorship in Italia poi quindi io lì spesso avevo ansia perché non sapevo come io vivevo in un ambiente nel quale la limpidezza di fare uno spot per quello che era in questo paese era vista come Ardagüello dice che fa gli spot al posto di nasconderlo che coglione è un criminale ma funzionava così prima nel senso che gli influencer facevano finta di fare le pubblicità di non farle e le facevano comunque perché così tornava loro senza critica del pubblico e io per un breve periodo ero la pecoretta nera ma non avendo rapporti non avevo certamente mobbing da parte dei colleghi santi anzi però si vedeva anche dal pubblico questa cosa e lì c'era sempre sempre ansia cosa che poi è stata completamente stravolta sia dall'esperienza sia dalla consapevolezza più di un'altra cosa che da come è cambiato il mondo riuscendo a crescere un pochino da questo punto di vista quindi quello sì a livello creativo e umano anzi certamente però non sono mai stato impulsivo non ho mai cercato di approfittarmi della posizione per fare qualcosa prima che fosse il momento giusto e quindi ok quindi diciamo che la risposta come hai detto tu non è sì ma non è neanche no ecco esatto la vera ansia è quella non c'è sera mai è inutile girarci intorno è inutile cercare di edulcorarla e questa è sempre più forte è sempre più soffocante è sempre più opprimente e vabbè quella me la tengo è quella del cosa fare quanto quanto ossia mi hanno parlato delle ore di lavoro mi hanno parlato dei miei progetti mi hanno parlato di quello che faccio però se ci metto mese e mezzo a fare un video io vivo in maniera ulcerante non importa quanto possa uscire uno spirito durante non importa a meno che non sia l'esperto ma non è questo il periodo se non riesce qualcosa di qualitativamente folle io lo vivo male se sto lavorando a qualcosa di qualitativamente folle ma so che ci vuole tanto a farlo arrivare io la vivo male e quindi vivo sempre male se vuoi una risposta io vivo col mal di pancia tutti i giorni tutto il giorno tranne le 36 ore prima che esca un video e quelle successive che è uscito poi basta dopo 36 ore si torna nel loop io penso di sapere comunque la risposta a questa prossima domanda però evidentemente ti pesa il fatto evidentemente non lo so però ti pesa il fatto di non poter non poter non voler anzi in realtà caricare un video al day one di un determinato evento cioè ti pesa non lo intendi cioè il fatto di non essere sul pezzo come dici certe determinate volte ti pesa una cosa no questa cosa è passata anche perché ok proprio in nome del fatto che sono fortuitamente riuscito a raggiungere l'incredibile inorgogliente traguardo di essere riconosciuto come critico io ricevo più spesso che non se chiedo dei review code con quei review code che dipende dall'azienda possono arrivare effettivamente al day one e a quel punto però possono in caso per esempio appunto di Sony anche avere degli anticipi pazzeschi io sono già arrivato sul pezzo con recensioni di un'ora e passa guarda per esempio anche se non l'ho chiamata recensione in quanto era uno speech ma guarda per esempio God of War è uscito il day one la mia figlia è solo lei nel senso ho avuto occasioni e ho compiuto occasioni in cui sono stato sul pezzo la differenza di quando lo sei e non lo sei è sia pazzescamente enorme sia ininfluente che cosa intendo a differenza appunto degli outlet che su questo punto di vista vivono una maledizione ossia se arrivi secondo sei un po' nella cacca ed è un casino è quello che sta anche danneggiando tantissimo l'informazione digitale del motivo per il quale appunto riviste online digitali lavorano tanto sugli speciali perché ti permettono di avere una autorità non soltanto perché ricevi il gioco in ente prima e ne fai nella copertura ma perché hai la possibilità di offrire una competenza è una ricerca che altrove non troveresti il nostro caro influencer ha un vantaggio sotto questo punto di vista insieme a ovvi svantaggi ovviamente ma ha un vantaggio importantissimo ossia il pubblico che ti conosce e ha valutato come importante la tua opinione la tua critica la tua divulgazione la vuole sapere e basta non importa quanto quindi se arrivi un mese dopo la vorrà ascoltare quindi sì e no no perché il tuo pubblico ti vorrà sentir parlare di quella cosa perché sa come lo fai e nel mio caso vale la pena per XSR motivi sì perché chiunque non ti già conosca lo perdi immediatamente e senza sé senza ma salvo clickbaiting eccetera eccetera ma not that guy ok ok c'è un ragazzo in chat farai presto critiche live? è una domanda molto anzeccata questa la risposta è no ma non è neanche non le farò in live diciamo che chi mi segue da sempre ha visto tutte le cose tutte le volte in cui parlo del futuro io farò critiche live quando chiuderò i canali youtube quando avrò finito youtube e non lo avrò finito prima di star un po' vicino ai 60 anni facciamo over 50 sicuro sicuro quel giorno quando arriverà chiuderò il contenuto sui canali e farò critica anche in live ok chiarissimo chiarissimo allora per quanto riguarda rimaniamo un attimo legati all'argomento pubblico ok in parte forse hai già risposto però non nello specifico ma hai mai fatto un contenuto ti è mai capitato non adesso non in questo periodo storico proprio in generale da quando sei partito sul web di fare un contenuto non per voglia tua o meglio contro voglia per qualche motivo anche che sia per dire la pressione del pubblico che te lo chiedeva o per dire l'uscita di un gioco devo per forza farlo voglio farlo per forza piuttosto blocco gli altri lavori ma lo devo fare per forza cioè c'è stato mai un lavoro da quando hai iniziato che hai fatto contro voglia in generale allora qui entra in gioco un vantaggio amo i videogiochi e il medium lo amo così tanto che non mi pesa mai il dover lavorare a qualcosa a riguardo quello che è sempre pesante in maniera soffocante è iniziare uno di quei video da un mese e mezzo due quello è terribile cominciare quei video è un incubo perché non c'è niente non c'è niente hai l'orizzonte lontanissimo di una roba complicatissima e non hai niente quindi iniziare sederti e obbligarti a farlo hai quelle 48 ore di controvoglia perché lo devi fare e devi scrivere pianificare storibordare in maniera precisa qualcosa che ancora è troppo fumoso e di cui non hai la fiducia che vorresti fino a che non vedi che effettivamente è come pensavo cioè quello è però dura poco ed è soprattutto una paramentale non è davvero controvoglia l'unica cosa che ho mai fatto controvoglia è stata la prima sponsorship che abbia mai fatto perché lì mi mancava la consapevolezza l'esperienza e la capacità di capire come cosa quando farlo come con chi parlare di cosa per eseguirla correttamente ero ancora in quel caso un bebè ok chiaro 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 tra l'altro come scrivono in chat la lungimiranza cioè il fatto di aver pianificato anni di lavoro perché tu non hai pianificato mesi cioè non è che hai un lavoro che è pronto per il prossimo mese e stai lavorando a quello e poi si vedrà cioè tu hai lavori fino al 2023 eh molto forse di più molto oltre molto vabbè quando l'animus scusa l'animus quando più o meno l'animus 4 3 sì sì chiaro 2024 ecco più o meno ecco era perché avevo letto qualche tuo stato da qualche parte qualche tuo posto dove parlavi 2023 24 non ricordo allora il fatto è questo ok allora sfatiamo un mito che non è un mito è una cazzata però sfatiamo ok se io volessi l'anima oscura 3 sono al terzo episodio di 24 tipo circa 23 forse devo controllare se avrò addoperto qualcuno che potremmo potrebbero diventare 25 26 ma insomma l'anima oscura 3 la finisco entro novembre è un problema ma la finisco ma è uno stravolgimento della qualità che sarebbe un lore through chiacchierato con delle pause in cui fermo il personaggio e metto una chiacchierata mentre mi guardo intorno con la telecamera riguardo tutto ciò che potrebbe essere l'approfondimento necessario della narrativa del meta dello sviluppo del cat content e della soluzione della storia del macromondo una merda una cacata incredibile oppure trasformarla in video specifici di uno specifico argomento usa e getta che poi creano una ragnatela di approfondimento come magari sono quelli di vatibidia che però attentamente non a caso non perché è stronzo ma perché è smart in quello evitano molti argomenti sui quali non è il caso di fare un approfondimento perché poi rimani un po' appeso all'amo salvo un lavoro pazzo che l'anima oscura però ha dentro perché è una mia scelta a fare una cosa diversa che è omnicomprensiva e quindi ci si mette un mese e mezzo a fare un video e quindi figa ci vuole il tempo che ci vuole perché poi non è soltanto fare ricerca con cui tra l'altro finalmente ho collaborazione bensì proprio anche produrre un contenuto che che piaccia o meno cioè io a livello proprio ci sono ci sono cose che non sono opinabili ci sono cose che non sono confutabili se tu sotto l'episodio 3 dell'anima oscura 3 mi dici questo video non ha alta qualità o sei un clown o in maniera molto spontanea ti manca la competenza per capire che hai detto una cazzata o sei un classico troll quello lo mettiamo sempre da voi è che io do sempre molto rispetto a tutti quindi prima di scoprire che sono appunto in caso appunto troll ma che comparavo al clown cioè il troll clown ah ok certo certo sei un buffone solo che non lo fai di professione perché il clown di professione è un genio tu invece sei un cazzone ora ecco da questa prospettiva del tempo che ci vuole i casi sono due fai solo l'anima oscura 3 2023 è stato è finito sicuro sicuro 2022 forse persino dicembre 2022 fatto novembre fatto con questa qualità fatto ma non è così io adesso sto lavorando all'anima dei Lilin ogni tanto farò un effigie cioè io faccio purtroppo da one fucking man army tante cose e non sto parlando per aprire l'argomento infatti esatto tu non 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 è che faccio ah vabbè ma fai anche i gameplay fai anche live no io mi sto riferendo specificatamente sulle principali ho l'anima oscura l'anima dei Lilin vorrò cominciare intra oscura 3 l'anima della determinazione non quando sarà finita e quindi ci sarà uno spontaneo ormai che ho l'esperienza per capire certe cose zigzag a b a a c b a a b cioè nel senso deciderò in base a quello che mi sento o più che altro le possibilità che ho in quel momento di fare ho due episodi dell'anima oscura uno dei Lilin e uno scura uno della determinazione e uno dei Lilin quindi sì ci sono delle bolle di pausa che porteranno l'anima oscura 3 ad essere più prolissa beh però adesso ho le effigi le effigi cioè quelle è proprio quello che stavo per dire in realtà perché ci sono dei video non esistono video più importanti di altri ma esistono video più impegnativi di altri quello sì e ci sono anche i video più importanti di altri sì beh no intendo per te ah ok non puoi paragonare un episodio dello spirito dell'arcade all'effigie delle tre non parlo di importanza in quanto qualità parlo di importanza proprio per te personale cioè tu ogni video ci lavori comunque con la stessa passione la stessa voglia la stessa forza cioè non è che diciamo vabbè questo è secondario lo faccio però cuore passione forza sì anche nel stronzetto dei video ci metto l'anima però sono consapevole della differenza di importanza certo certo quello sì assolutamente non è è ovvio no però quello che volevo dire io è non pensi che questa cosa di aver programmato alcune cose alcuni argomenti entro diciamo 2023 sia diciamo cioè sia una data sbagliata in realtà ma ti spiego perché si può essere ma parte il futuro io parlo anche di farli riuscire prima nel senso mi spiego tu hai parlato recentemente ma comunque da un po' che ne parli di un sabacono maiko 4.0 che quando ti trasferirai bla 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 ok però a prescindere da questo non arriverà a un certo punto probabilmente fine prossimo anno in cui avrai più collaboratori e non sarei una one man army e quindi magari usciranno prima le cose che hai pensato di far uscire io non posso avere collaboratori prima del 4.0 è impossibile perché io ho scoperto recentemente che praticamente ogni collega che conosca ha collaboratori e io sono rimasto l'unico coglione da solo e il punto è che loro hanno una o l'altra o entrambe cose le cose che uno no ossia ha uno studio fisico con persone fisiche che lavorano fisicamente con dei pc fisici ai loro contenuti fisici oppure hanno le gigabit ok e a quel punto possono mandar loro materiale io non registro i contenuti a 8 megabit 720 un mio episodio di gameplay sono 35 giga cioè il tempo che lo mando senza facecam poi c'è la facecam altri 70 giga cioè non è possibile ma ci minchia cioè nel senso non è non è virtualmente possibile nel momento nel quale la carriera continua ad andare avanti continua ad andare così e io riesco persino ad assumere qualcuno figata però devo farlo lavorare certo e quindi e in quel caso io lo sogno allora perché ci sono cose che nessuno può fare altre che non sia me al di là di quello che posso trovare come sinergia e simbiosi se trovo veramente qualcuno che mi trova e quindi riesce a creare a montare come me posso dargli molti se non quasi tutti gli spiriti ma le anime non esiste non è possibile cioè non è proprio umanamente possibile è qualcosa che è chiaramente solo estro creativo personale esatto stavo proprio per dire personale sei tu dentro quel video non è che sono le mie opere mentre che so se trovo il piccolo genio che mi trova che mi riconosce e mi legge e mi sa specchiare se esistessi in un altro universo una linea migliore qui eccetera 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 e per migliore io l'ho già finalmente ho aperto la mia vita tantissime opportunità ma la gigabit è un'altra cosa l'anima della scoperta 7 su Elden Ring sarebbe un'esperienza diversa per me perché come sarà stavolta arriva va bene quanti video riesco a fare al giorno fermando tutto il resto 4 e parlo di registrazione 4 va bene 5 se proprio 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 esce fuori che sono episodi un po' più brevi e non si mangia 5 sono 5 contenuti video 5 contenuti audio 5 contenuti facecam sono quindi 15 footage footage come si può pronunciare come si può ricascare io da ordinare catalogare montare post produrre renderizzare e uploadare tutto questo significa che tu fai un giorno di registrazione un giorno di post e quel giorno con i tempi tecnici è preso tutto 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 specialmente se non fai solo cosa che un tempo magari ti richiedeva il triplo ma che con l'esperienza diventa più veloce se è un qualcosa di più del metto a sync facecam e audio perché talvolta vedi Death Stranding vedi lo spirito dei Souls 3 ci metti post produzione chicche scenari extra montagini speciali effetti e cerchi di dargli un'anima non soltanto un riversamento dell'esperienza come registrazione voyeur e quindi se fosse l'universo parallelo esistente io quei contenuti quel giorno che perdo non esisterebbe perché quel giorno io starei registrando il resto nel mentre si va a mandare via internet i materiali all'editor cioè è completamente diverso ma non si può per ora non posso non si può virtualmente proprio aritmeticamente concretamente ok beh allora hai aperto il discorso che tanto comunque avrei aperto io quindi comunque lo apriamo in questo momento è del fatto proprio del vero e proprio dietro le quinte cioè proprio entriamo dietro le quinte di Sabaku virtualmente purtroppo sarebbe figo fare un tour però no secondo me no secondo me niente cosa sto dicendo tu hai diviso tutto in nomenclatura quindi comunque effigie anime spiriti eccetera eccetera ok hai tutto già pronto eccetera eccetera però come hai detto tu ogni cosa richiede un lavoro un lavorone ok quindi hai detto post-produzione iscrizione scrittura non iscrizione scrittura eccetera eccetera ora singolarmente se si riesce ovviamente singolarmente quanto ti ci vuole per la scrittura partiamo così ecco di cosa di un video qualsiasi è figa so che sono diversi lo so per dire di un effigie quanto prendiamo un effigie prendiamo un effigie che è il lavorone dipende l'effigie del primo sguardo o l'effigie di cyberpunk rimaniamo rimaniamo dai rimaniamo sul vago perché altrimenti un effigie il fatto è questo non puoi non puoi rimanere sul vago perché io non faccio contenuti medi l'effigie di un primo sguardo dura 20 minuti l'effigie di cyberpunk dura 2 ore ok cyberpunk prendiamo quello più grosso cyberpunk quanto è stata la scrittura quanto ci è voluto per scriverlo solo esclusivamente scrittura e visto che ci sono scusami ma come è strutturato un tuo copione perché parliamo di dietro le quinte quindi come è strutturato fisicamente proprio allora quello che faccio è scrivere in maniera molto colloquiale se parlo di effigie dove ho la facecam o in quel caso proprio l'inquadratura di me stesso io sono evoluto passo dopo passo moltissimo prima erano contenuti tanti anni fa a braccio da zero preparazione avevo in testa quello che volevo dire a livello di emozione e andavo via pulito poi ho cominciato a mettermi davanti alla mente scrivendomene un paio di righe dei concept cose che volevo fossero dette si è arrivato infine allo scrivere tutto quanto pezzo per pezzo ma a differenza di quello che fanno saggiamente molti colleghi saggiamente ripeto non c'è nulla che non sia più smart di far così io per gusto di quello che vuole essere la mia esposizione il mood che voglio dare al video non taglio salvo grossi pacchetti di video che possono durare un quarto d'ora venti minuti quando mi va proprio sfortunatamente male sei sette minuti quindi non faccio come fanno appunto i colleghi molti un montaggio invisibile costante frase per frase che rende quindi il testo scritto esattamente quello che vuoi ottenere e che ottieni che è una cosa molto furba e può essere fatto sia per gusto personale in maniera non gradevolissima quindi i classici tagli del respiro il tutte le frasi tagliate con lo scatto di jump cut che è diventato un format a livello filmico è un difetto da nel cappello dell'asino in angolo a livello social no è smart è veloce è dinamico e non ti fa perdere tempo oppure lo nasconde con un montaggio più curato più attento più competente nei confronti di quello che è la grammatica video perché io ho un po' di cultura tecnica riguardo nel mio caso no nel mio caso cerco di farlo te l'ho detto cinque volte sei volte basta il minimo possibile e quindi ho tutto scritto tutto 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 scritto ormai motivo per il quale i tempi si sono moltiplicati ma poi è memorizzato memorizzato e vado blocco per blocco questo ha migliorato ovviamente tutto moltissimo in questo caso nel nell'effigie di cyberpunk che è suddivisa in tre parti e che dura infine due ore io penso che è un cinque quattro giorni ci metti a scriverlo perché poi è un scriverlo rileggerlo riscriverlo rileggerlo riottimizzarlo 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 finito quindi più o meno così e poi si comincia a fare content si registra il video di me che parlo poi questo è ciò che rende i miei video in un certo senso molto speciale e lo sono sotto quel punto di vista in quello fino a che non sbaglio fino a che non mollo fino a che non cambio idea fino a che non capisco che faccio male in quello riesco a sorvolare molti miei colleghi perché non sono così pazzi e non sacrificano così tanto il tempo che è da investire per una cosa così superficiale per quanto sono sicuro che si vede nei miei video quello che poi occupa tempo e tanto sacrificio perché impazzisci è che in gergo tecnico si dice dico gatto vedo gatto ossia ciò che dico è esattamente ciò che deve apparire su schermo a schermo si è il contrario di quello che faceva all'epoca Simone youtube fa cagare quel format di tipo leafy in cui metti un gameplay a caso e parli del cazzo che ti pare l'esatto diametrico aritmetico opposto sono io parlo di cyberpunk ogni frase è dedicata a un'arma una mossa uno skill tree un'abilità un'area una meccanica un NPC un dialogo una grafica un effetto grafico ogni cosa che dico è decisamente necessario appaia esattamente come dico io quando dico io nell'animazione che dico io schermo per due ore quindi diciamo che è un piccolo lavoro ok capito micchia no ovviamente ironico esatto è ovvio che non può essere un piccolo lavoro è un lavorone e allora arriviamo alla parte della della preproduzione che è questa registrare tutte quelle clip ok e la fase montaggio invece ok vuoi far arrivare qualsiasi cioè dici una parola quella parola deve comparire però fase montaggio anche per dire in quel video specifico prendiamo un video gigante comunque quanto è il tempo impiegato più o meno un mese di più un mese fisico o un mese pratico nel senso un mese un mese fisico nel senso no è pratico un mese pratico cioè due mesi pratici due mesi pratici centinaia di ore fisiche centinaia di ore fisiche perché quello che faccio io quello che mi permette di avere una sezione commenti quando escono questi video diversa dalle altre è che io evito se ma e quasi ogni domanda proprio perché faccio questo lavoro che cosa intendo a dire nella parte di cyberpunk iniziale discuto di tutta la storia di CD Projekt Red e del caso che ne è uscito dello scandalo e delle varie cose ogni cosa che dico accanto intorno o in sovrimpressione a articoli documenti dichiarazioni dialoghi tutto ciò che rende già dimostrato ciò che dico qualunque sia la domanda che può uscire da uno del pubblico della serie aspetta ma quando è che CD Projekt ha detto quella cosa hai già la risposta appare a video oppure parli di quei dati di vendita quali sono esattamente appaiono a video sono quelli cioè mi permette non perché non voglio rotto il cazzo anzi io adoro discutere però perché così il mio contenuto è più preciso se io dico qualcosa anche per quando me lo rivedrò tra due anni non ricorderò niente di quei valori dico cazzo figo l'ho messo ah ecco era quello ah porca miseria vero cioè sono cose meravigliose per me lo rendono e tra virgolette è eterno perché hai anche il feedback quasi da saggio meno non c'hai proprio il link dell'immagine google che ti fa capire da quale pezzo è stato preso però è così e quindi sì quello è il tempo che ci vuole ok quindi possiamo dire o meglio ti chiedo ma inizialmente soprattutto adesso non dubito che sia così però chissà magari è così ma inizialmente ti è mai capitato di lavorare un video per dire una settimana e poi dire oddio lo devo buttare questo video non è venuto come volevo alla fine cioè te ne accorgi prima immagino questo è qualcosa che ho superato grazie all'esperienza di vita che ho fatto io ho cominciato a montare video a 13 anni quindi ho superato quella fase l'ho avuta ma ormai basta ho superato quelle imprecisioni ho superato quelle imperfezioni e quel pericolo di misunderstanding di me stesso ok ma c'è stato semplicemente sono partito con l'esperienza giusta sì diciamo che quando sei arrivato su youtube e vivi già esperienza adatta esperienza adatta per farlo molte cose sono cambiate e sono migliorate in maniera quasi esponenziale però quella base era andata ok ok allora visto che siamo quasi in chiusura facciamo così siamo quasi in chiusura comunque te l'avevo detto un'oretta un'oretta e mezza non sforo non sforo delle più belle interviste che avevi mai fatto te ringrazio grazie mille e non chiudiamo ancora però quasi con questa domanda molto semplice in realtà qualche spoiler sul futuro che non è ancora detto qualcosa che lo chiedevano anche prima in realtà mi dispiace farti cioè questa domanda fa un po' tenerezza con me ne abbiamo parlato prima non c'è niente che io non abbia detto nel senso ok lo spoiler sul futuro va bene è questo grazie al fatto che ho su Torima e che le figi non sono pianificate ci potranno sempre essere sorprese tipo una serie su Torima un progetto su Torima un effigie extra cioè queste cose ci saranno sempre ma per il resto il percorso è sparatissimo cioè è una distesa all'orizzonte molto ordinata ma non costrittiva non mi obbligo su un percorso chiudendo mia opportunità e scelte mi pianifico qualcosa che ho già promesso di fare da tempo e da tutta la vita praticamente perché mi porterà tutta la vita come impegno ossia adesso sta andando in corso lo spirito dell'Arcade 2 e l'Animo Oscura 3 so la lavorando all'anima dei Lilin per il prossimo episodio il sesto video che è il quarto episodio appena posso inizierà il sequel dello spirito della Rescoperta 5 su Intergrade sempre su Pureia e contemporaneamente lo spirito del roleplay 3 su Mass Effect Trilogy che è lo spirito del roleplay su la trilogia di Mass Effect da lì che cosa accade che dietro le quinte entro quello che vorrei fosse il rilascio del remake parte tutti di Final Fantasy 7 lavorerà lo spirito dell'Esperto 4 e questo è Pureia salvo che poi ovviamente arrivi Salt and Sacrifice altri Souls-like che possono inserire lo spirito dei Souls un'altra remake a sorpresa i remake a sorpresa offrono sempre per la riscoperta un'opportunità poi cosa abbiamo su Torima che ha progetti da qui a tanto perché c'è sempre l'extra pronto sto facendo The Mindy Go Isaac Repentance poi c'è la saga di Gears of War sto andando avanti con la saga di Resident Evil porterò tutto The Witcher tutti i The Witcher porterò tutti i Red Dead Redemption porterò all'interno di progetti anche più cioè sì sì ci sono due però intendo di dire tutti tutti 100% esatto no però a fondo non completismo ma giocati in mood sto facendo Kingdom Hearts Saga ci sono format che stanno nascendo su Pureia cioè adesso per esempio e poi c'è l'anima della caccia e poi c'è l'anima del guerriero e poi c'è l'anima del faro e poi c'è l'anima della nebbia poi c'è l'anima del viaggio poi c'è io ho qui fino a altro che Anta è fatta possibilmente anche l'anima del cuore nel senso è vero le anime potrebbero non essere ciò che ci si aspetta potrebbero non essere gameplay visto che ormai il gameplay lo riesco a fare così bene così tanto altrove potrebbero essere anche altre cose insomma vai tranquillo che si va diciamo che la parte una delle parti più belle del tuo lavoro è soprattutto stavo per dire una cavolata stavo per dire più facile ma non è una cavolata non è la verità però è che hai sempre qualcosa di cui parlare sempre se conosci il tuo lavoro ma non solo in tutto questo ciò che manca è che a me piacerebbe tantissimo trovare il tempo e con i collaboratori riuscirò ad averlo un giorno di tornare a fare l'effigie delle news è uscita la switch OLED vuoi che non ci sia 20 minuti di cui parlarne io ho già 20 minuti di discussione da fare ma figuriamoci no no me lo aspetto ovviamente e quindi succede continuamente un sacco di roba le polemiche le articoli le casine a voi c'è tanto da fare tanto mi piacerebbe avere sempre più collaboratori per poterlo fare perché comincio a essere oversaturo però sì ok allora penultima domanda piccolina piccola piccola poi l'ultima domanda non dico che sia più grande ma media ecco forse l'hai già detto me lo sono perso spero di no ma se me lo sono perso mi scusi in anticipo qual è la tua ispirazione nel 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 creare un prodotto che sia un video o anche un sì che sia un video ecco dal montaggio a cosa ti ispiri a chi ti ispiri cioè un'ispirazione principale diciamo aspetta ripeti che ho perso ok a cosa ti ispiri per fare i tuoi video nel senso non che prendi un video e dici ok voglio fare quello ma dal punto di vista proprio dell'anima delle cose quindi non so come spiegarmi è proprio complessa come domanda allora c'è stato un percorso dal negli ultimi tre anni autonomamente nel senso che adesso io mi guardo sempre intorno ma genero da solo l'ispirazione sono con l'esperienza fatta cominciato ad essere un creativo autoalimentato come di solito sono i creativi di una certa esperienza ossia sicuramente fare una passeggiata fuori prendere una boccata d'aria aiuta ma l'ispirazione è diventata diciamo una macchina ad energia infinita all'inizio ero invece un calidoscopio che assimilava tutto per esempio l'iniziale epic name bro per esempio il famoso capapà della community dei souls e john bain total biscuit nel senso avevo diversi input che però adesso ormai sono le fondamenta che aggiungendosi a me sono diventate ormai su una struttura lontana rispetto al piano che ho raggiunto gli scalini step by step da fare e quindi adesso sono autonomo ok ok allora facciamo così concludiamo nel modo più semplice ma anche forse carino possibile con una piccola polemica sicuramente aspetta le antene sono sempre dritte nel senso che mi capita spesso di vedere una cosa sentirne un'altra percepire un ambiente o vedere una serie un montato un qualunque tipo di opera altrui un videogioco anche dire cazzo fantastico e assimilare e aggiungere al castello mentale però non ho più necessità di farlo per andare ma io necessità è un parolone non ho più una sorta di simbiosi così importante ok sono più autonomo ok allora concludiamo non è una polemica è un un tuo parere ecco sei partito prima su youtube ti sei affacciato alla community di twitch dal momento in cui hai potuto farlo e però cosa ne pensi dello stato attuale di twitch vivendolo un po' dal punto di vista proprio fisico la gestione di twitch in questo momento come la vedi? qui ti rispondo purtroppo come ti potrei rispondere come ti avrei potuto rispondere mi avessi intervistato nel 2015 su youtube non lo so conosco troppo poco non conosco io adesso faccio su Torima vivo su Torima ho cominciato a conoscere qualche collega e sono riuscito a interagire un po' con loro ma quando qualcuno parla di twitch io vedo tutti i nomi sconosciuti terminologie di community mai sentite prima e in generale sono ancora molto nella bolla sono ancora molto nella bolla che è sempre il mio modus operandi è sempre il mio modus operandi io faccio quello che faccio al meglio che posso ma tra virgolette non perdo tempo ad andare in giro e quindi mi limita piano piano poi uno si sblocca e esplora ma sono ancora nella fase di spontaneo non conoscitore dell'argomento e della piattaforma beh sotto un certo punto di vista meglio così eh comunque nel senso ah no sicuramente sotto un certo punto di vista io sono contento di questa cosa in realtà sentirla dire ovvio che ci sono cose di cui è meglio sentire parlare persone persone streamer ecco di cui è bello sentirne parlare cito uno a caso che conosci poco Dario Moccia non lo conosci Dario ovviamente quella è la parte positiva però ovvio che come tutte le cose ci sia la parte un po' meno positiva ecco diciamo tu stai vivendo la parte positiva se posso dirlo quindi diciamo che comunque ho la sensibilità necessaria per saper riconoscere ciò che non lo è quindi non mi avvicinerei a qualcosa che non lo è ok comunque come dico in chat sei ancora in blind su Twitch qui effettivamente è vero effettivamente comunque tabacco ce l'ho fatta ce l'abbiamo fatta rimanere sull'ora e mezza anzi pure prima ti ringrazio per essere passato per aver accettato grazie a voi e grazie a tutti i ragazzi nuovi arrivati veramente non sono riuscito a rispondere anche perché diciamo che l'ho trattata come una vera e propria intervista quindi io e Michele che parliamo e comunque ragazzi vi ringrazio veramente siete grazie alla valle borecane grazie mille per essere passati tutti quanti ragazzi veramente ci sentiamo noi domani se qualcuno vuole passare alle ore 15 come sempre tutti i giorni in live ciao ragazzi vi saluto